Inizialmente posso parlare l'Italiano. Quando hai cominci a insegnarmi il sloveno? Sloveno è molto difficile, non ti conviene. Quando io e Paolo ho chiesto a me, a chi lo può scrivere. E ora è tempo per l'espanol. E tempo per l'espanol è più tardi. Rimoš, quanti linguaggi puoi parlare in una giornata normale? In una giornata normale, potrei parlare 4 o 5, magari. E anche alcuni linguaggi esperanto. No linguaggi. Bars, tutti quelli. Fruits, gels, nuts, chocolate, coffee. Coffee, frizz, food for sandwiches, salad. E comeci, guardate, guardate. Certo. Non male. Ok, quali sei sei, sei sei, sei sei. E adesso? E adesso, guardate. Me troppo? E tu? Oh, guardate. E tu? 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 Sì, è una squadra davvero seriosamente se si tutti sono in una faccia full. Excepto praticamente. Io ando in una faccia full. Oh, oh, sorry! A ese pino se le da. Sì, andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere. Quindi abbiamo qui meccanico, manager team, manager marketing, meccanico, chief dei meccanici, e cameraman, come puoi vedere! Allora, seguirei del marketing manager. Oh, oh, oh! Be careful, quando Iñaki is out of his office. Primo! I'll follow you guys! Buongiorno! Buongiorno! Pastillas nuevas, liquid, cadena nueva, piñones nuevos, rueda nueva, piñón nuevo, rodamiento nuevo, tutto! All'luevo! Adesso, se io in casa tuviere qui, un stand, material, mi visita estaria così... Puoi andare in multitudini. Con la visita, avicare così... No! So, we're going to do a quick bike check for Pinkbike, or Martin's Bike. Ciao, sono Martin Max. che al final conta la storia della squadra, non solo la aczione e le emocioni al final della squadra, ma anche questa gente, ovviamente parte fondamentale del squadra, e hai che contare il lavoro che facciano. La scopi non arriva. Cosa? Milch o qualcosa? No, solo black. Rebound done. I'm going to tend to race both normal bike on Friday and e-bikes on Saturday. It will be the first time for me. I love the bike and I want to give it a try. How many times have you done this? So many. Is that for the burgers? No, for ice cream. Ice cream? Yeah, the topping for the ice cream. What flavors do we have? That's a cigarette. Thank you. Yeah, thank you. I won't let you go. I won't let you go. Very nice. Seven numbers. There's one and this one is black. Okay, there's a black number bike. And why is there a part course for the electric bike? Okay, it's the same but with the power stage. We're going to watch. We stay in the hotel and tomorrow we want to see them. But I think it's dangerous. Ah, the first time is dangerous but you know, when you are riding a year ago... Have you tried it one time? Yeah. Of course. We're going to see you on the track then. See you on the track then. Oh! No se que ponerte. Lo que vaya a correr con tu mu... Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Ya suficiente! Hoy le vamos a poner una GoPro al mecánico más peligroso Que nos de una visión así un poco desde dentro de los entrenos Agarrense! Vamos a ir tranquilos Un fío un pelo Un mecánico es un peli Ok, hoy va a ser un buen día Todo bien? Todo bien He parado aquí por... me venía bien El peligro, el peligro! Suave, suave? Si, si, ahí muy bien, suave Ahí fuera mejor flota seguras Venías muy bien, venías rápido Vamos, vamos! Vamos para arriba! Hay que subirse bastante! El mulillo está aquí ¿Estás bien? En el momento se sigue así Noi, noi. Sembra che ci sono stati subito. Come si è subito, ragazzi. Sì, come si è subito. Oh, scolo! Sì, 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 sì. 16, 19, 17 o qualcosa. Sì, sì, sì? Ohhhh Boom Bro Wow Before you Yeah I didn't even see that Actually it's the same game It's the same game I was like what have I seen not seen Fuck I didn't see that I lost It's beautiful you know it's my first time ever at a DHEDR event and it's just a good vibe Here you know people can ride bikes really fast here It's nice to see it in real life Not just on a screen Ah Tap near the office Yeah No energy today But you've got to accept to You are facing one of those days you know Yeah And move on to the next one Um Just the notepad there I just like the contour of this cup is fantastic That is my timeline EEDR race day Rollout 9 Taz 140 Finish 345 Dinner GTs It's all night Smiley Tick Did you see Yeah It sells all the bikes downhill Cause everyone sees it They all want to watch downhill Well that's The discussion that we were having actually So It's pretty Until you came we were talking about that Oh yeah We were going to put the pressure on No I want to see I want to see Mardin back at more downhill races That's what I'm looking forward to Yeah That's what you get outside of the top 10 You cook No gin tonic I'm No gin tonic I'm the cleaning after Oh Wait You got a second chance tomorrow Let's be gentle Tomorrow Tomorrow is the last chance Warming him up nicely A little bit stiff from yesterday's Full enduro So He's lucky he's got a battery that can help him today The horse is ready Google's on Here we go again Here we go again Buonissima Guys I'm not sure if all they did stage 2 but Martin Mayes is on fire What does that mean? First First Nine seconds to second What is your biggest concern now? What is your biggest concern now? Change the 3 batteries in 20 minutes What do you think? Go 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 Box We love uno dei giorni perfettanti nella mia vita dove due autriani vengono e questo anno è anche buono è bello vedere le bicicletti Orbea perché amiamo Orbea oggi è bello sembra che sto corriendo io la seconda si è complicato con Eddy che ha venuto pincao me ha cojonato ha salito tutto bene Flo anche, senza problemi con Flo ha sobrato tempo me può entrare un'altra si volete ah, è come... è in uno nooo, nooo WTF pretty tight turn here see what happened yeah boy congrats ho molto molto tempo non ho mai buon molto divertente buon anno buon anno buon anno non ha mai buon anno dai ho mai buon anno ma è tanto felice l'unico buon anno 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 E così è come la OnlyFans dell'equipo Espetacular Il 11 è il mio numero favorito, quindi lo prendo di ricordo Il anno che viene lo prendo io a le basi Grazie!